Suo figlio è in caserma con l'assicurazione scaduta, si fa così consegnare la pensione appena ritirata e si dà alla fuga. Ancora una truffa ai danni di un'anziana, questa volta però fortunatamente finita con un arresto. È successo ad Arezzo, in zona Marchionna. Il copione è sempre lo stesso. Tutto inizia con una telefonata all'anziana vittima, dall'altro capo della cornetta un sedicente carabinieri dell'arma, ma in questo caso un maresciallo che chiede denaro per poter restituire l'auto al figlio, sequestrata perché beccato con l'assicurazione scaduta. Poco dopo la chiamata entra in scena la complice che si è presentata a casa della signora, facendosi consegnare più di 1000 euro, quasi l'intera pensione ritirata qualche giorno prima. Ma non solo, la truffatrice approfittando di un momento di distrazione della vittima è riuscita a portare via anche alcuni monili, tra questi la cornice con una foto del fratello, un carabiniere deceduto 30 anni fa durante un servizio. All'anziana non ci ha voluto molto a capire di essere cadute in un raggiro e ha allertato così immediatamente il figlio, che grazie alla tempestiva chiamata alla sala operativa della questura di Arezzo è riuscito a far arrestare la truffatrice. La donna, una 38enne originaria della provincia di Napoli con numerosi precedenti specifici, è stata bloccata dagli agenti della squadra mobile che stavano pattugliando la città alla stazione mentre stava per salire a bordo di un treno e sparire così nel nulla. Con sé aveva ancora la refurtiva 1000 euro nel risvolto della giacca e il resto nella borsa. Questa mattina la 38enne è stata processata per direttissima. Per lei è scattato il divieto di dimora e l'obbligo di firma. Si tratta del secondo caso registrato da Arezzo negli ultimi giorni. L'appello della polizia di Stato è sempre lo stesso. Prestare la massima attenzione e segnalare prontamente alle forze dell'ordine ogni situazione sospetta.